Grazie a tutti Sì, non c'è, non c'è. Beh, beh, beh. Ma te, ti ha accattato a te? Ti ha fregato a te, tu? Non sta a far video, eh? No, 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 no. Ma ti stai drogando? No, 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 no. Con la pizza che ho fatto con i giudici. Se li propone, mi piace, faccio il razzino. Facciamo un giudice a tutti. Lucia, vedi che dico. Eh? No, no, no. Cos'è a tutti? Altro attaccapocciate? Ma com'è bello? Perché invece invece cosa fa bene? Meh! Meh! Ahia! No, la prossima facciamo con le fraude. Allora, la prossima facciamo con le fraude. Ti ha letto. Allora, devi pagare.